di Formats PA. Oggi siamo arrivati al diciannovesimo webinar dedicato al ciclo dell'innovazione digitale. Benissimo, datemi un feedback se mi sentite correttamente. Oggi parleremo di aiutare i cittadini a trovare ciò che cercano su web, ovvero parleremo di SEO. Benissimo, vedo che mi sentite bene. Oggi abbiamo con noi i nostri relatori, sono Lorenzo Fabri, content designer del team per la trasformazione digitale, Daniela Iozzo, esperta di web marketing SEO dell'Agid e avremo una testimonianza del comune di Firenze con Barbara Tonetto, responsabile dei canali di comunicazione. Abbiamo questo programma. Io prendo un po' di tempo per parlarvi appunto di questo ciclo di webinar dedicati all'innovazione digitale che sono stati organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agida e Formats PA, Italia Login, Servizi Digitali. Con questi webinar appunto siamo arrivati al diciannovesimo, quindi molto ricco di temi. Il nostro obiettivo è stato quello di accompagnare le pubbliche amministrazioni verso quella trasformazione digitale che oggi è indispensabile per offrire a cittadini servizi innovativi, digitali, appunto più facili e accessibili. Quindi i nostri riferimenti su questo appunto hanno seguito la normativa di riferimento per il CAD e il piano triennale e in particolare i temi che abbiamo affrontati appunto sono andati un po' a sviscerare tutte quelle parti del modello strategico del piano triennale per appunto la digitalizzazione della PA. Abbiamo parlato di sicurezza, di data analytics frameworks, di infrastrutture fisiche, quindi data center e cloud, di infrastrutture immateriali che sono le piattaforme abilitanti, speed, pack o PA e in questi ultimi webinar ci siamo concentrati sull'accesso ai servizi e sulla progettazione dei servizi, quindi progettazione di servizi usabili e accessibili ai cittadini per avvicinare appunto queste nuove modalità di fruizione dei servizi della pubblica amministrazione. Quindi vi ricordo che tutti i materiali e tutte le registrazioni sono disponibili sui eventi PA. Vi anticipo che la prossima settimana abbiamo un ultimo webinar prima della pausa estiva dedicato all'intelligenza artificiale che è sempre organizzato con Agid, infanto Agid ha redatto questo libro bianco sull'intelligenza artificiale supportata da una task force proprio di esperti di intelligenza artificiale, quindi se volete potete già iscrivervi a questo webinar e comunque vi manderemo una comunicazione nei prossimi giorni. Allora qual è il tema di oggi? Oggi appunto la domanda è cosa cercano i cittadini su internet, quindi quali sono i servizi più richiesti dagli utenti e perché ce lo chiediamo? Perché noi progettisti abbiamo bisogno di sapere cosa cercano per progettare questi servizi in modo che siano trovabili dagli utenti e quindi facilmente reperibili e ci sono delle tecniche che servono proprio a questo scopo e parliamo appunto di SEO, di Search Engine Optimization. Quindi l'obiettivo è quello di far trovare tra le informazioni tantissime che abbiamo su web quelle che più servono ai cittadini, quindi il lavoro che dobbiamo fare da back office è quello proprio di far emergere, di far galleggiare quei contenuti che il cittadino ci sta richiedendo. Quindi oggi di che cosa parleremo? Oggi appunto sia Agid che Team Digitale ci parleranno del lavoro che hanno fatto in questo senso proprio nell'ambito appunto delle linee guida di design per i servizi digitali dell'APA, un tema specifico è proprio quello del SEO che oltre avere appunto delle linee guida teoriche è accompagnato appunto da una parte specifica dedicata al SEO che fa parte del design kit. Quindi ce ne parleranno nel dettaglio i nostri relatori di oggi e a cui appunto a breve darò la parola. Vi ricordo che è possibile esporre delle domande in chat ai relatori e poi le diciamo porremo al termine dei loro interventi, quindi vi invitiamo sempre insomma a partecipare tramite la chat. Vi ricordo anche che la registrazione e i materiali verranno pubblicati sulla pagina dell'evento su Eventi IPA, quindi tra oggi e domani troverete tutto e appunto qua in questa pagina, quindi cliccando su questo link a breve pubblicheremo materiali e registrazione. A questo punto io direi di dare subito la parola a Lorenzo Fabri per appunto presentarci in particolare il lavoro di design kit che è stato svolto dal team digitale e da Agid e aprirci insomma al tema di questo webinar. Quindi Lorenzo puoi attivare la tua webcam mettiamo il tuo microfono, attendo appunto che tu ok. Benissimo, ti vediamo, vediamo se ti sentiamo anche e poi ti lascio la parola. Ciao, buongiorno a tutti. Benissimo, allora a te Lorenzo. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi facciamo questa sessione dedicata alla SEO che fa parte del percorso di Designers Italia e in generale del passaggio che abbiamo inaugurato in questi mesi da una logica delle linee guida a una logica dei kit, quindi fornire degli strumenti pratici e operativi che ciascun team, gruppo di lavoro possa utilizzare e incorporare nei propri flussi di lavoro per poter costruire servizi più efficaci. Chiedo di metterci a disposizione le slide così se vogliamo possiamo iniziare la presentazione. Quello che vorrei fare io in una decina di minuti è cercare di fare un intervento di raccordo, cioè di spiegare un po' come si inserisce il kit legato alla SEO all'interno della logica generale dei kit e in particolare quali sono i rapporti e le connessioni con il kit legato ai contenuti perché per molti aspetti SEO e tema dei contenuti viaggiano a braccetto. Con me oggi ci sono Danila Iozzo che è la specialista SEO del nostro team in generale, lei fa parte del gruppo di Agile, mi fa piacere ricordare che con lei abbiamo iniziato il lavoro sulla SEO l'anno scorso, nel senso che una delle prime cose che abbiamo fatto insieme è stato proprio lavorare sulla SEO, lei mi ha presentato un lavoro già in fase molto avanzata e da lì è nata la prima guida dedicata alla SEO dentro le linee guida di design e oggi in qualche modo Danila ci presenta a distanza di circa un anno il kit dedicato alla SEO, quindi una serie di strumenti pratici, la traduzione della guida in una serie di tool. Poi abbiamo Barbara Tonetto che rappresenta il comune di Firenze e Barbara, scherzavamo un po' su questo poco fa, è un po' l'avamposto delle linee guida nel mondo italiano dei comuni, nel senso che sta facendo un lavoro di frontiera, di applicazione delle linee guida, di sviluppo di una logica orientata al cittadino nel mondo dei comuni, un lavoro che è per definizione in progress e in divenire, però molti degli elementi di fondazione sono stati posti e molti altri arriveranno nei prossimi mesi. Bene, dunque entriamo nel merito del ragionamento, noi diciamo sempre che la pubblica amministrazione deve essere più efficace e inclusiva, sono un po' due parole chiave che hanno a che fare con il fatto che i servizi devono essere più efficaci e che devono ovviamente essere aperti e rivolgersi a tutti i cittadini. La trasformazione digitale è questa, non è di per sé un fatto tecnico, è una serie di elementi di cambiamento e di miglioramento del nostro modo di lavorare in un'ottica di efficacia e di inclusione sempre più ampia di persone all'interno dei servizi. Per questo motivo abbiamo creato Designers Italia. Designers Italia è una piattaforma, è una community di persone che cercano di avere e di sviluppare maggiori competenze o che lavorano direttamente al tema dei design dei servizi della pubblica amministrazione. Designers Italia ha come missione la semplicità, la semplificazione dei servizi e l'idea di fare in modo che la tecnologia sia qualcosa di sempre più vicino alle persone, quindi il tema di avvicinare la tecnologia alle persone. Abbiamo una newsletter che ci tiene aggiornati su tutte le novità, in particolare Designers Italia governa un po' tutto ciò che la community fa in termini di sviluppo di linee guida e di kit. Come sapete le linee guida hanno una divisione in quattro ambiti, che sono la ricerca, il service design, l'interfaccia utente e i contenuti. Adesso stiamo riflettendo se inserire una quinta area dedicata alla prototipazione, all'importanza di sviluppare del tema dei prototipi per progettare nuovi servizi e riorganizzare servizi esistenti, di questo vi faremo sapere e speriamo di portarvi materiali concreti nelle prossime settimane. Come sapete, dicevo prima, un capitolo importante delle linee guida è dedicato alla SEO, quindi esiste già dentro le linee guida di design una sezione dedicata alla SEO molto ben nutrita che Daniela ha rilasciato in prima persona, ovviamente col contributo di tante persone lo scorso anno e poi diciamo che il SEO si inserisce all'interno dei nostri kit, quindi come vedete nella parte in basso, sui temi legati al fare, le cose concrete, il SEO è uno dei kit, è stato appena rilasciato e contiene degli elementi che poi Daniela ci presenterà. Naturalmente per molti motivi, per il fatto che noi cerchiamo le cose usando il linguaggio naturale, la SEO è strettamente legata al mondo dei contenuti. Quindi quando abbiamo lavorato sul tema dei contenuti, abbiamo lavorato molto anche con Daniela e abbiamo cercato di fare dei kit che si parlassero tra di loro e che potessero essere usati un po' insieme. Diciamo che essenzialmente, non voglio entrare su aspetti tecnici, però il concetto essenziale è che chiunque abbia un sito internet può utilizzare lo spreadsheet, il report per fare un audit dei contenuti, del kit sui contenuti, può usare lo spreadsheet per fare un report di analisi SEO per quanto riguarda la SEO. Quindi il punto di partenza per tutti quelli che stanno gestendo, si occupano in vario modi di un sito web, può essere utilizzare il content audit del nostro kit sui contenuti e l'audit SEO presente nel kit SEO per iniziare un lavoro di analisi e revisione del proprio sito web. Qual è la situazione dal punto di vista SEO? Qual è la situazione dal punto di vista dei contenuti? Sono semplici? Sto utilizzando troppo burocratesi e non me ne rendo più conto? Questo è un po' il tema di cui si occupano a braccetto, diciamo, contenuti e SEO. Perché chiaramente, come dicevo prima, ogni volta che noi lavoriamo sui concetti legati alla SEO, che ha a che fare con l'ottimizzazione per i motori di ricerca, raggiungiamo degli obiettivi che spesso hanno a che fare con il linguaggio. Molte volte si tratta di semplificare il linguaggio, di utilizzare il linguaggio in una maniera più efficace, più vicina al modo in cui noi usiamo le parole, al modo in cui noi cerchiamo le cose come esseri umani, individui e cittadini, e quindi molte volte è una cosa che ha a che fare con il tema della semplificazione del linguaggio della pubblica amministrazione. Quindi usiamo questi due kit insieme. Il kit sui contenuti lo abbiamo presentato nello scorso mese di giugno, è presente sul sito, è organizzato in tre aree, cioè ha a che fare con la progettazione, con la scrittura e con la gestione dei contenuti. Lì dentro, come sapete, esiste una guida al linguaggio della pubblica amministrazione, e quindi esiste un primo nucleo di indicazioni lessicali e sintattiche di best practice che hanno a che fare con l'uso del linguaggio nei siti web, sia per l'uso del linguaggio all'interno della cosiddetta area dello UX writing, cioè di tutti i testi che accompagnano le interfacce, sia per quanto riguarda i documenti e altri contenuti che finiscono nei siti web. Quindi in termini generali la nostra guida al linguaggio rappresenta il nostro punto di riferimento e contiene una serie di indicazioni che riguardano la SEO. Quindi utilizzare la guida al linguaggio, scrivere in modo semplice per il web, di fatto produrrà in modo naturale dei benefici lato SEO. Poi la SEO contiene tutta una serie di aspetti tecnici che è bene conoscere, che poi Daniela illustrerà nel suo intervento, che, integrati con le buone pratiche di scrittura per il web, ci consentono di essere più raggiungibili dalle persone. Sappiamo che le funzioni del linguaggio di cui si occupa il kit sono orientare gli utenti, guidare i cittadini, supportarli e informarli. La SEO interviene sui primi due in particolare, cioè sul tema dell'orientamento e della guida. In particolare, diciamo che noi ci occupiamo di tutto ciò che ha a che fare con la costruzione di ecosistemi informativi e quindi naturalmente diamo delle risposte alla prima domanda dell'utente, che è dove mi trovo. Manual di navigazione, etichette e filtri di ricerca aiutano l'utente ad orientarsi. Questo riguarda la progettazione dei contenuti, dei riferimenti di linguaggio. E ovviamente gli utenti partono dai motori di ricerca, quindi il kit SEO inizia a dare una risposta a queste domande sin da quando noi ci troviamo su Google e cerchiamo delle cose. Tipicamente cerchiamo dei servizi, nel momento in cui cerchiamo dei servizi abbiamo bisogno dall'altra parte di trovare pagine web che abbiano un buon titolo, una buona descrizione, che abbiano uno scopo. Quindi progettare contenuti semplici, eliminare contenuti ridondanti, non scrivere pagine che non hanno uno scopo e pensare a quelle che sono le domande di base dei cittadini che usano i nostri servizi. Cioè ritorniamo alla semplicità, alle domande di base, perché molte volte siamo tutti schiacciati dalla complessità delle piattaforme, delle cose da fare e così via. Torniamo alla base di quelle che sono le esigenze e i bisogni dei cittadini. La seconda parte su cui la SEO ovviamente ci aiuta ha a che fare con il tema del come faccio a, nel senso che ovviamente i contenuti lavorano in termini di schede servizio, nella produzione di procedure e nel fatto di dare istruzioni, ma anche in questo caso spesso questo tipo di domanda nasce all'interno dei motori di ricerca. E quindi anche in questo caso queste pagine devono essere costruite con una forte attenzione alla SEO. E quindi diciamo arriviamo a questa connessione. Come iniziare il lavoro sulla SEO? Noi suggeriamo sempre di partire da un audit dei contenuti da una parte, quindi iniziare a farsi una bella lista delle pagine più visitate del nostro sito internet e analizzarla. E dall'altra parte utilizzare invece un bel kit, un bel spreadsheet dedicato alla SEO per incominciare a mappare i principali problemi che riguardano gli aspetti strettamente legati all'ottimizzazione per i motori di ricerca. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi principalmente che noi ci poniamo sono quelli della semplicità, quindi non farci schiacciare dal burocratese, non farci schiacciare dalle procedure, avere bene in testa quello che cerca il cittadino e trasformarlo in procedure chiare. È chiaro che per scrivere procedure chiare bisogna avere capito molto bene come funzionano le cose, saperlo raccontare alle persone. Ordine, quindi eliminare il disordine. Spesso nel disordine si nascondono gli errori, si nascondono i refusi, si nascondono le contraddizioni. Avere siti web ordinati e semplici, impacchettare le informazioni con una logica semplice. Il tema dell'aggiornamento, spesso gli audit dei contenuti non bisogna farli una volta ogni tre anni, perché bisogna che periodicamente chi gestisce i contenuti di un sito web faccia una verifica delle sue pagine per mettere bene, in chiaro, in evidenza, ci sono delle cose da aggiornare. Un altro aspetto rilevante che si dimentica sempre è il tema delle priorità. Lo accennavo prima, è chiaro che i contenuti sono sempre tanti, ma non possiamoci schiacciare della complessità. Partiamo da quelli più utilizzati e letti dalle persone. Partiamo dai bisogni di base. Magari ci sono dieci pagine su cui lavorare. Non partiamo dall'esigenza di gestire tremila pagine web. Concentriamoci sul fatto di scrivere bene quelle pagine che sono, in questo momento, il punto di ingresso del cittadino e danno le risposte chiave ai suoi bisogni. Lavorare sugli standard. Usate e usiamo le guide e i protocolli perché la pubblica amministrazione ha bisogno di standard. Non possiamo inventare ogni volta la ruota per fare le cose. Dobbiamo utilizzare le cose che esistono e migliorarle nel tempo. Come sapete, Designers Italia, lo ricordo, è un progetto totalmente aperto e open. Quindi chiunque utilizzando il forum e GitHub può contribuire, può segnalare carenze, può segnalare la possibilità di migliorare determinate aree. Quindi questi standard e questi kit possono evolvere grazie al vostro contributo. Questo è molto importante dirlo e ricordarlo perché già avviene ed è bene che ci sia una partecipazione dal mio punto di vista crescente perché tutti devono sapere che possono contribuire concretamente a definire questi standard. Gli standard non sono qualcosa che noi subiamo, gli standard sono qualcosa che stanno lì per semplificarci la vita. Poi ovviamente i temi di interazione con gli utenti che non possono essere trascurati. Ricordiamoci, infine, come vi dicevo prima, che ci sono delle interazioni tra i kit. Allora è chiaro che se noi lavoriamo sulla SEO dobbiamo lavorare moltissimo con i kit sui contenuti. Poi ci sono anche dei temi di ricerca che sono altrettanto rilevanti. Nel senso che evidentemente la semplificazione del linguaggio e il miglioramento dell'efficacia dei nostri contenuti si deve essere verificato utilizzando dei test. Quindi nelle linee guida di design dei servizi della pubblica amministrazione abbiamo anche i test di usabilità. Sono un modo un po' per chiedere alle persone se ci capiscono e se si trovano bene nei siti che abbiamo costruito. E poi gli A-B test su cui stiamo lavorando. Non esiste ancora nulla all'interno delle linee guida, ma anche qui vi anticipo che rilasceremo un post sul nostro blog seguito proprio da Daniela insieme a Roberta Grimaldi sul tema degli A-B test, sulla costruzione di un protocollo per incominciare a chiedere agli utenti sostanzialmente, cioè a registrare indirettamente quali sono i contenuti per loro più efficaci e com'è il modo più efficace per costruire delle pagine web. In parallelo tutto il tema dell'architettura dell'informazione, quindi della fondazione e della progettazione di un ecosistema informativo che ha molto a che fare con il design in generale di un sito web e di una serie di servizi su cui stiamo allo stesso modo lavorando e produrremo dei template e strumenti di base per fare wireframing e navigation tree mentre esiste già un protocollo per il card sorting, quindi per fare esercizi, per priorizzare i contenuti e gli argomenti e per abituarci a discutere su come chiamare le cose nel modo più semplice possibile. Ecco, questa era la prima panoramica per inquadrare il tema della SEO all'interno di Designers Italia e i suoi rapporti e connessioni con tutto ciò che ha a che fare con i contenuti. A questo punto io passo la parola a Daniela, non so se vogliamo lasciare uno spazio per qualche domanda adesso oppure farle alla fine e io naturalmente sono a completa disposizione. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie per questa panoramica appunto sul kit di design. Allora, volevo dire due cose, che questo webinar è appunto indirizzato un po' a tutti, diciamo, le persone che si occupano di progettazione di siti perché poi, diciamo, la progettazione dei siti comporta anche la collaborazione tra più persone con skill diversi quindi è proprio importante anche che queste persone, insomma, si riescano a parlare e a collaborare insieme. E poi la seconda cosa riguardo l'inglese, diciamo che un po' gli inglesismi sono, diciamo, indispensabili perché proprio, cioè, anche gli stessi profili web che abbiamo, comunque termini tecnici, le documentazioni tecniche spesso sono in inglese quindi di conseguenza, diciamo, siamo portati per forza di cose a parlare in inglese quindi un piccolo sforzo, insomma, sono termini abbastanza semplici, insomma, possiamo assecondare questo, diciamo, questi inglesismi insomma, spesso per alcune parole non abbiamo proprio la traduzione in italiano quindi, ecco, superiamo questo ostacolo e andiamo avanti Allora, una domanda che è arrivata era, appunto, Cristina Ceccarelli che ci dice, appunto, utile questo file per l'audit vuoi dire qualcosa in più su questo, Lorenzo? Sì, allora, noi seguiamo, come sempre, c'è una logica molto operativa per cui abbiamo costruito un file per fare l'audit dei contenuti e, allo stesso modo, uno spreadsheet per fare un audit dal punto di vista SEO e sono pubblicati, appunto, all'interno dei kit e disponibili quindi è sufficiente andare sul file, crearne una copia e a quel punto utilizzarla per il proprio sito web i file servono per fare una prima mappatura partendo tendenzialmente dalle pagine più importanti e spesso questo ce lo possono dire web analytics ma anche, ovviamente, i servizi nel senso che se io erogo un servizio che è il mio servizio principale naturalmente la pagina che consente di fruire di questo servizio sarà oggetto di analisi e quindi includo, diciamo, nella mia prima analisi un numero di pagine che può variare, ovviamente, tra 10, 20 pagine e 50 pagine a seconda della complessità di un sito web è un modo per iniziare a lavorare sui contenuti senza, diciamo, dover muovere la montagna tutti insieme perché ovviamente pensare di lavorare su mille pagine web o duemila pagine web può essere veramente complesso e, diciamo, farci passare la voglia di iniziare a farlo dopodiché, diciamo che il concetto che noi proponiamo è sostanzialmente questo da una parte c'è una guida al linguaggio che fornisce una serie di parametri che possono essere i parametri utilizzati per l'analisi la seconda cosa che noi consigliamo è di utilizzare degli strumenti cosiddetti di annotazione che consentono di riportare dei commenti nelle pagine attraverso sostanzialmente un sistema di commenti che si genera attraverso un'estensione Chrome o altre modalità noi suggeriamo alcuni di questi software gratuiti perché in questo modo è possibile fare analisi dei contenuti all'interno delle interfacce cioè non è che dobbiamo prendere i contenuti e portarli, che ne so, su Word o Google Docs la cosa migliore è analizzare i testi e fare dei commenti direttamente sul sito web utilizzando strumenti di questo tipo, quindi un'estensione Chrome di annotation e sempre nel kit ci sono dei suggerimenti sui software che si possono usare per farlo poi Daniela invece vi presenterà in modo dettagliato credo che ve lo farà anche vedere lo spreadsheet dedicato alla SEO e diciamo che questi due spreadsheet questi due strumenti di analisi possono lavorare benissimo a braccetto perché magari se devo iniziare questo lavoro dall'inizio lavoro sui contenuti in generale e poi naturalmente la seconda cosa che posso fare è provare a fare un minimo di ottimizzazione SEO di questi contenuti e quindi come secondo step utilizzare questo foglio di lavoro benissimo, va bene, grazie Lorenzo poi vediamo se arrivano altre domande grazie direi a questo punto direi la parola a Barbara Tonetto del Comune di Firenze in modo che ci presenta un'esperienza concreta benissimo Barbara vediamo si, eccoci qua di sentirti prima di disattivare la mia webcam perfetto buongiorno a tutti a te la allora, tanto buongiorno a tutti sono Barbara Tonetto lavoro all'ufficio comunicazione del Comune di Firenze e quello che vi racconterò adesso in maniera sintetica è l'esperienza della nuova rete civica andata online solo il 13 dicembre scorso ora, io vorrei proprio nell'ottica di questo webinar vorrei focalizzare il mio intervento in quelle che sono alcune tecniche che noi applichiamo ai contenuti delle pagine web proprio in un'ottica di ottimizzazione SEO e ovviamente sono è una visione parziale di tutto quello che viene realizzato in ottica SEO perché ci sono poi aspetti legati agli aspetti più tecnologici di cui si occupano i nostri colleghi di sistemi informativi quindi vorrei sottolineare questo fatto diciamo, dedicherò proprio ad alcuni di questi fattori di ottimizzazione allora, innanzitutto alcune informazioni per raccontare l'esperienza come vi dicevo prima la rete civica del Comune di Firenze è andata online il 13 dicembre scorso e nasce da un progetto che è mosso da esigenti diverse due innanzitutto il primo era quello di finalmente arrivare a una rete civica responsive la precedente non lo era con penalizzazioni notevoli soprattutto sotto due punti di vista il primo penalizzazione è veramente per i cittadini perché infatti i dati ci dicevano che c'era un tasso una frequenza di rimbalzo da parte soprattutto di coloro di chi accedeva da mobile estremamente elevata veramente elevatissima tenendo conto poi che a livello non solo nazionale ma la tendenza era ed è quella di accedere ai siti web attraverso mobile e quindi questo era il primo ordine di penalizzazione verso il cittadino e poi Google stesso ci penalizzava perché appunto in quanto sito non responsive quindi questa era la prima esigenza la seconda era quella di mettere in mano l'architettura dell'informazione la rete civica del comune di Firenze nasce nel 96 nel corso degli anni ha subito varie trasformazioni miglioramenti ma si è anche estesa notevolmente sia in senso verticale delle informazioni raggiungendo numeri di pagine veramente elevato un numero di pagine elevato e anche un'estensione in senso orizzontale vi dico solo che ad oggi stiamo in fase di revisione ci sono circa 40 siti tematici funzionanti o quasi silenti che ruotano intorno al sito principale e questa crescita in senso verticale orizzontale negli anni non è avvenuta in maniera coerente creando non pochi problemi nei confronti del cittadino in termini proprio di accesso all'informazione quindi sia dal punto di vista dello strumento del dispositivo sia dal punto di vista dell'organizzazione dell'informazione mentre si svolgeva tutta questa questa riflessione forte diciamo in qualche maniera a sostenere il nostro percorso senza dubbio è intervenuta la pubblicazione delle linee guida di design dei siti web e quindi sono diventate per noi effettivamente un punto di riferimento importante in questo percorso verso di realizzazione della nuova rete civica brevemente ma proprio perché è importante individuare quello che è il quadro della situazione ripercorro le tappe fondamentali il cammino verso la nuova rete civica in realtà è un cammino nato nel 2015 grazie al lavoro fatto dai nostri colleghi dei sistemi informativi in quell'anno infatti che viene acquisita in maniera molto semplificata vedo che Barbara appunto abbiamo un problema di collegamento provo a disattivarle la webcam e vediamo se riesce a riconnettersi Barbara se puoi riattivare il tuo microfono e la tua webcam perché perché non si deve essere bloccata la rete c'è sicuramente un problema con la rete di Barbara ok vedo che è uscita dall'aula quindi probabilmente il programma ha smesso di funzionare vediamo vediamo se rientra ok vedo che sta rientrando Barbara vediamo Barbara se puoi riattivare la tua webcam e il microfono vediamo se riusciamo a proseguire con il tuo intervento ok vediamo perfetto eccoci qua va bene rieccoci a te la prossima allora vi dicevo appunto un percorso iniziato nel 2015 perché comunque tutto il cammino per la realizzazione della nuova rete civica è stato fatto a quattro mani o comunque a due uffici senza dubbio i sistemi informativi del comune e l'ufficio comunicazione ciascuno operando in quello che è il proprio contesto e le proprie competenze fallo poi ovviamente soprattutto nell'ultimo anno lavorare a stretto contatto quindi si parte nel 2015 nel 2016 un po' all'anno di realizzazione del capitolato della gara perché comunque in questa opera di razionalizzazione e di realizzazione della nuova rete civica ci siamo comunque appoggiati ci siamo infatti supportare anche da soggetti esterni quindi diciamo il 2016 è stato dedicato a questo e poi finalmente il 2017 proprio dall'inizio dell'anno questa azione di analisi progettazione realizzazione la pubblicazione della nuova rete civica a dicembre come vi dicevo prima allora ho evidenziato il 2017 perché qui poi dove è importante focalizzare questo intervento dentro questa operazione di analisi finalizzata alla migrazione e alla messa online possiamo individuare tre fasi principali allora la prima ci ha visti i protagonisti soprattutto noi dell'ufficio comunicazione che abbiamo in qualche maniera messo in campo quelle che sono le nostre competenze ossia che ha lavorato all'analisi dell'architettura della rete civica e dei stili tematici prendendo tenendo diciamo tenendo accanto e consultando e facendo riferimento alle linee guida di design e dopodiché abbiamo realizzato e condiviso una proposta di nuova architettura con quelli che erano quelli che sono i servizi di riferimento coinvolti nelle diverse aree della rete civica delle sezioni della rete civica dei stili tematici oggetto di analisi e di proposta di nuova architettura conclusa questa fase diciamo tutto il pacchetto è passato poi all'anima tecnologica di questo di questo progetto perché si è trattato di realizzare di verificare poi la fattibilità e la realizzazione di quella che era un'architettura pensata da un punto di vista teorico e condivisa certo però sempre da un punto di vista teorico mentre procedeva la fase 2 e che chiaramente è ancora in corso perché noi siamo andati online con la rete civica ma quest'anno ci stiamo misurando su in qualche maniera sulla grande questione di stili tematici quindi la sfida 2018 sono senza dubbi stili tematici da rivedere razionalizzare e pubblicare in termini in modalità coerente con la rete civica bene mentre appunto si svolgeva la seconda quella seconda fase noi come ufficio comunicazione abbiamo cominciato a lavorare su i contenuti del i contenuti finalizzati alla migrazione cioè abbiamo cominciato ad analizzare i contenuti esistenti nella vecchia rete civica e cercando un pochino di sapere cosa migrare cosa tenere cosa rivedere cosa aggiungere perché devo dire il fatto che non sia stato possibile realizzare una migrazione automatica automatizzata ma manuale in qualche maniera ci ha permesso di gestire questa migrazione come una sorta di trasloco di grande trasloco da una vecchia a una nuova casa che non necessariamente come abbiamo sempre spiegato i nostri redattori era più grande o più grande della precedente in questa operazione i redattori hanno svolto i redattori alla comunicazione hanno svolto un ruolo fondamentale il Comune di Firenze già lavorava già aveva adottato a diversi anni una un sistema di redattori quindi che operavano in diversi ambienti web i redattori che si occupavano di gestire o di pubblicare in rete civica quelli che lavorano più sui siti tematici e gli altri magari più impegnati sul portale dei servizi quindi comunque un gruppo di persone che in questi anni si è in qualche maniera anche arricchito e visto formato il progetto della rete civica è stata per noi l'occasione per anche censire l'elenco esistente cosa anche verificare se c'era la stessa disponibilità o magari se qualche redattore nel frattempo ha cambiato ufficio cambiata destinazione cambiate mansioni quindi abbiamo coinvolto e portato in aula qualcosa come 80 persone nell'arco di circa un mese e mezzo la formazione l'abbiamo gestita in due momenti un momento generale di presentazione del progetto quindi tutti i redattori coinvolti in una giornata seminariale e poi singoli momenti rivolti costruiti in base all'attività di migrazione dei contenuti ogni singola attività di migrazione dei contenuti quindi piccoli gruppi di 4-5 persone formati intorno ai contenuti da gestire quindi da analizzare rivedere e migrare è stato ed è ancora un lavoro estremamente anche faticoso per i nostri redattori però devo dire che hanno dimostrato grande disponibilità anche a rimettersi in gioco da un punto di vista dei contenuti io qui riporto alcune informazioni che già noi abbiamo condiviso in passato con i redattori quindi non sono novità per noi l'aspetto importante è che si è cercato di far capire ai nostri redattori come il fatto che ancora oggi più della metà degli utenti che accedono al nostro sito alla nostra rete civica comunque arrivata a Google fa sì che sia importante prestare attenzione e mettere in campo tutta una serie di tecniche per poter ottimizzare i contenuti in un'ottica serve allora vi elenco alcuni fattori di ottimizzazione che abbiamo cercato intorno ai quali abbiamo cercato di formare i nostri redattori sottolineo il fatto che è comunque un percorso ancora in divenire quindi continuo innanzitutto l'attenzione al titolo insistiamo molto sull'aspetto dell'utilizzo di titoli pertinenti e parlanti come elemento fondamentale in termini di in ottica SEO quindi l'attenzione proprio all'utilizzo dei titoli devo dire che in generale spesso i nostri redattori si trova in una posizione quasi di difficoltà tra magari le indicazioni che condividono con noi dell'utice comunicazione e magari le pressioni o più in generale le indicazioni che gli arrivano dei propri responsabili per cui si trovano spesso a mediare tra quella che potrebbe essere la soluzione migliore e che anche loro comprendono e quella che magari spesso è una soluzione lo metto tra virgolette un po' costretta da magari dai propri responsabili quindi più vincolati o più legati a un linguaggio ancora burocratico o più burocratico e vi ciò i titoli lo stesso l'attenzione al testo di accoraggio dei link abbiamo cercato di abolire e quando lo vediamo lo eliminiamo il cosiddetto clicca qui quindi testi brevi parlanti e soprattutto pertinenti a quella che è poi la pagina di destinazione del link lo stesso per quanto riguarda il nome dei pdf e quindi cercare di invitare i colleghi a indicare prima l'anno parole pertinenti eventualmente brevi eventualmente separati dal meno e non più dall'unasco quello della duplicazione dei contenuti è una diciamo una modalità è un'indicazione che abbiamo dato da sempre nel senso che come vi accennavo prima questo sviluppo in senso verticale e orizzontale della rete civica sarebbe stato ancora più grave e ancora più incontrollabile se accanto a questo si fosse inserito una duplicazione dei contenuti provate solo a immaginare cosa voleva dire avere anche solo la mappatura delle zone di pubblicazione dello stesso contenuto quindi considerando ripeto lo sviluppo verticale e orizzontale del sito il discorso altro elemento importante è quello di inserire la descrizione testuale dell'immagine quindi di utilizzare il fast art e anche questo è un elemento che fa parte che in i nostri momenti di formazione conviviamo con i nostri redattori un'attenzione particolare la vorrei dare a questi due prossimi fattori cioè quello del grassetto della parola chiare allora il grassetto quello che facciamo è quello veramente di invitare i nostri redattori a un uso parsimonioso come sappiamo tutto è sottolineato niente è sottolineato cercando di prestare attenzione fare in modo che la parola o le parole grazie che oggetti in qualche maniera vengono evidenziate siano coerenti con il titolo e le parole chiavi di cui dirò subito sotto proprio in questa ottica di rafforzare gli elementi che poi in un'ottica di ottimizzazione del motore di ricerca cercare cioè di muoverci e dare indicazioni in termini di coerenza le parole chiavi allora le parole chiavi sono così un elemento importante oggetto anche dei momenti formativi con i nostri redattori noi abbiamo fatto la scelta di lasciare il campo libero e ci rendiamo conto che in realtà è una sfida perché il rischio è anche quello che il redattore si sente un po' schiazzato perché per ora lo dobbiamo ammettere nel dare indicazioni al al redattore siamo ancora diciamo in maniera prevalente empirici ossia noi diamo indicazioni al redattore affinché si metta nei panni del cittadino quindi gli smetta per così dire le proprie funzioni di impiegato della pubblica amministrazione invece pensi a come il cittadino potrebbe ricercare quell'informazione o quel servizio sul motore di ricerca quindi è secondo questo approccio per fare un esempio che viene utilizzata come parola chiave in mensa e non una riflessione tanto per farvi un esempio però speriamo anche tanto per rimanere in tema che dai kit SEO ci arrivino delle indicazioni da questo punto di vista più oggettive e più utile proprio perché abbiamo lasciato per ora questa libertà di campo magari mi piacerebbe capire e sapere se è la scelta più opportuna o invece sarebbe più opportuno suggerire un numero limitato di parole chiari è un tema che abbiamo affrontato anche in sede di nuova rete civica e anche in questo caso abbiamo preferito lasciare il campo libero quindi a un numero teoricamente infinito forse non lo so se è troppo presto per tirarle fila però a un certo punto dovremmo farlo dovremmo confrontarci con questo aspetto altri due fattori di ottimizzazione introdotti invece della nuova rete civica sono la struttura delle url generata in maniera automatica abbiamo fatto questa scelta per cui l'url viene generato automaticamente in base al titolo della pagina salvo la possibilità da parte in questo caso dell'ubice comunicazione quindi non sono permessi generalizzati ai redattori di poter intervenire laddove è necessario manualmente sull'url anche se bisogna dire che questa scelta cioè di generare in maniera automatica l'url è anche un invito e questo è quello che cerchiamo di fare durante i nostri momenti formativi affinché anche nel titolo della pagina venga in qualche maniera pensato sempre in quest'ottica SEO quindi doppiamente un doppio controllo e poi abbiamo introdotto attraverso la compilazione del campo abstract la description dei contenuti e anche questo è una novità legato alla nuova rete civica per ora lo utilizziamo in maniera fondamentalmente noi dell'ufficio comunicazione per tutto il mondo degli articoli delle notizie e l'ufficio stampa per i propri comunicati stampa anche qui si è di nuovo bloccata la connessione con Barbara e vediamo se riesce a ricollegarsi provo a disattivare la webcam momentaneamente vediamo se Barbara puoi provare a riattivare il microfono e webcam ok dobbiamo aspettare un attimo che si riconnetta se purtroppo sono i difetti della diretta se vediamo che non si collega comunque darei la parola a Daniela e magari concludiamo con Barbara appena si riconnette vediamo qualche secondo se riesce a connettersi altrimenti ecco vedo che adesso si è connessa nuovamente Barbara se puoi riattivare il tuo microfono e la tua webcam ok direi magari di passare a Daniela Iozzo di Agid la parola no ecco Barbara però non la vediamo ti sentiamo ma molto piano Barbara ma magari mentre cerchi di ripristinare la connessione diamo la parola a Daniela e poi magari riprendiamo al termine che dici va bene allora diamo la parola a Daniela buongiorno eccoci Daniela condivido le tue slide e poi ripassiamo a queste con non appena Barbara ha risolto il problema a te la parola Daniela grazie Michela allora buongiorno a tutti io sono Daniela Iozzo e lavoro per l'agenzia per l'Italia digitale in qualità di esperto di web marketing mi occupo in particolare di SEO e di web analytics ringrazio anche Lorenzo per l'introduzione precedente rispetto al lavoro che abbiamo fatto insieme lo scopo del mio intervento nel contesto di questo webinar è quello di portare alla luce le connessioni le dovute connessioni fra il lavoro da fare a livello di content design e il lavoro dedicato alla search engine optimization spendo due parole diciamo di introduzione per illustrare che cosa intendiamo con il termine SEO e search engine optimization che vuol dire ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca e intendiamo con questo acronimo tutto un insieme di tecniche che sono applicabili ai contenuti web e alla struttura dei siti e hanno la finalità di migliorare il posizionamento di un contenuto nei risultati dei motori di ricerca mi soffermo su alcuni termini rispetto a questi concetti il primo è iterativo sono tecniche iterative perché l'ottimizzazione SEO come l'ottimizzazione dei contenuti non è una cosa che si fa una tantum come spesso erroneamente si tende a pensare bensì presuppongono entrambi un lavoro costante di monitoraggio di check di adattamento e di aggiustamento del tiro rispetto non soltanto alle esigenze degli utenti dei cittadini che cambiano nel corso del tempo spesso cambiano anche addirittura a livello stagionale e anche rispetto al cambiare del funzionamento dei motori di ricerca ricordiamo ne parlerò approfonditamente anche in seguito che la maniera in cui funziona Google e la maniera in cui Google renchizza i suoi contenuti ovvero assegna un ordine ai suoi contenuti nei risultati di ricerca non è assolutamente lasciato al caso anzi è regolato dagli algoritmi molto sofisticati che mano a mano diventano sempre più come dire capaci di intercettare e comprendere qual è il bisogno che si nasconde dietro una semplice query una semplice parola chiave digitata dall'utente nella barra di ricerca il secondo concetto su cui vorrei soffermarmi è il termine posizionamento di un contenuto perché diciamo così sento spesso utilizzare la parola posizionamento e la parola indicizzazione in maniera come dire come se fossero due sinonimi in realtà non è propriamente così perché quello che fanno i motori di ricerca per arrivare al posizionamento di un contenuto quindi all'assegnazione di un ranking parte da un primo momento zero che si chiama scansione nel momento in cui mettiamo online un contenuto i motori di ricerca utilizzano dei crawler che sono dei software possono essere dei bot degli spider che vanno a scansionare il contenuto delle singole pagine web per trarre da quei contenuti degli elementi salienti che poi vengono organizzati in potremmo dire in una sorta di database che contiene centinaia di miliardi di pagine e questo è lo step che si chiama indicizzazione il posizionamento riguarda specificamente il funzionamento dell'algoritmo cioè la maniera in cui l'algoritmo di un motore di google o di un altro motore di ricerca in questo senso assegna una sorta di punteggio a un determinato contenuto rispetto a un termine chiave cercato dalla persona nel momento in cui quella persona esprime un bisogno tutti noi sappiamo che ormai praticamente a google noi proponiamo delle vere e proprie domande motivo per cui non solo gli algoritmi diventano più sofisticati ma anche perché anche il nostro lavoro deve diventare sempre più sofisticato e idoneo a intercettare qual è l'intento e qual è il bisogno che si nasconde dietro quel tipo di digitazione la SEO quindi va da sé che è un sistema complesso di tecniche iterative che impattano su vari ambiti e varie professionalità sono trasversali a tutta una serie di ruoli se penso per esempio passando appunto dalla redazione dei contenuti come descriveva Barbara fino allo sviluppo informatico fino al team che si occupa della sicurezza fino ancora alla comunicazione vera e propria cioè alle iniziative di promozione del contenuto che non sono necessariamente sitospecifiche ma possono avvenire anche al di fuori del sito stesso su altri siti canonicamente possiamo dire che gli ambiti dell'ottimizzazione SEO si suddividono diciamo così in tre ambiti la SEO home page la SEO off page e la SEO più prettamente tecnica cosa di cui si parla di meno se volete come come anche il collega suggeriva nella shot pubblica spenderei qui una parola per dire che in realtà nel kit che presenterò verso la fine dell'intervento in realtà noi abbiamo incluso anche tutta una serie di questi task più tecnici quindi ad esempio dalla mappa XML del sito destinato ai motori di ricerca a come è possibile controllare il crawling delle pagine utilizzando e gestendo il file robot a come bisogna considerare la velocità di caricamento delle pagine che viene presa anche quella in considerazione come fattore di posizionamento per ricordare in ultimo ma non meno importante l'usabilità del sito sui dispositivi mobili al di là degli aspetti tecnici dicevo tendenzialmente si tende a dividere gli ambiti dell'ottimizzazione SEO in home page e off page per home page intendiamo generalmente la struttura del sito nel suo complesso l'infarchitettura la gerarchia delle informazioni la metadatazione la struttura parlante delle URL la rete dei link interni eventuali errori di status che vanno gestiti soprattutto in caso di migrazioni penso ad esempio ai 404 che possono generarsi qui mi ricollego all'esempio di Barbara che parlava della migrazione della rete civica mi sono presa in questo contesto la licenza poetica di creare un ambito a parte relativo all'ottimizzazione SEO proprio per evidenziare quel raccordo di cui parlava anche Lorenzo fra SEO content design e gestione dei contenuti della SEO mi sono presa la libertà di chiamarla SEO on content dove con questa locuzione diciamo così intendo porre luce sul fatto che la scrittura per il web e il lavoro sui contenuti che siano ottimizzati in ottica SEO non si limita soltanto a fare in modo che i contenuti stessi siano più digeribili dai motoli di ricerca passate nel termine ma deve avere anche il nobile obiettivo diciamo di ridurre quanto più possibile il gap fra quello che è l'intento dell'utente di qui sopra e poi quello che effettivamente l'utente trova sia nel motore di ricerca e sia nell'informazione fornita all'interno della pagina questo è il motivo per il quale SEO e gestione dei contenuti e design dei contenuti la progettazione dei contenuti devono camminare a braccetto come diceva anche Lorenzo anche Lorenzo devono procedere in tandem e con l'obiettivo finale di rendere le informazioni e i servizi sempre più idonei a soddisfare il bisogno degli utenti proprio nel momento in cui effetto hanno le loro ricerche a questo proposito farei una piccolissima disamina su due aspetti il primo è questo ricordiamo sempre che il sito un sito web non è raggiungibile solo ed esclusivamente dalla home page come si tende a pensare spesso e volentieri ma è raggiungibile da ogni singolo contenuto che c'è al suo interno dove per ogni singolo contenuto non si intende soltanto una singola pagina ma parlo anche di documenti parlo anche di file multimediali normalmente tendiamo soprattutto nel mondo PA invece a riservare grandissima attenzione al cosiddetto all'home page al posizionamento dell'home page o alla sua organizzazione ricordiamo ricordiamo inoltre che gli utenti sul web in generale e su google hanno tendenzialmente poco tempo e poca pazienza questo che cosa vuol dire se osservate il grafico questo grafico ci dice che soltanto una quota minoritaria degli utenti va oltre la prima pagina dei risultati di ricerca che di fatto il primo e il secondo risultato si dividono praticamente oltre il 50% dei click di tutta la SERP cioè di tutta la pagina di ricerca quindi quello che succede nella maggior parte dei casi è che nel caso in cui la risposta del motore di ricerca per la parola chiave digitata non sia rispondente o apparentemente rispondente al bisogno espresso su questo apparentemente arriverò nella slide successiva gli utenti procedono ad una nuova ricerca quindi ricominciano da capo per prove ed errori fino ad arrivare al contenuto che realmente li può soddisfare apparentemente perché apparentemente perché se analizziamo l'anatomia di un risultato di ricerca quello che succede è che ancora prima di accedere a un determinato contenuto l'utente si fa proprio un'idea di quanto è congrua la risposta contenuta in quelle formazioni rispetto a quello che sta cercando quindi in questo senso il risultato del contenuto che appare su Google è già una sorta di teaser se volete o di preview di quello che la pagina in questione conterrà al suo interno ecco perché è importante a questo proposito concentrarsi sulla correttezza e la pertinenza di alcuni elementi di metadatazione di base che sono il title e la meta description che sono la prima cosa che gli utenti leggono quando cercano qualcosa su Google e per quella parola chiave arrivano ad uno dei nostri in questa presentazione parlo tantissimo di Google e lo menzioniamo varie volte anche nel kit per una ragione obiettiva perché di fatto Google come vedete dalle statistiche è praticamente il motore di ricerca leader in Italia questo vale sia per il desktop sia per il traffico non desktop da qui l'estrema importanza che ha la gestione il monitoraggio costante dell'usabilità dei nostri contenuti anche su dispositivi che non sono desktop quindi da mobile da tablet eccetera eccetera come dicevo all'inizio a introduzione dell'intervento non esiste ottimizzazione SEO senza il monitoraggio la SEO l'ottimizzazione SEO è e deve essere un lavoro iterativo proprio perché cambiano nel tempo il funzionamento degli algoritmi di Google e cambiano nel tempo le esigenze degli utenti che si trovano a fruire dei nostri siti fortunatamente abbiamo la possibilità lato SEO di utilizzare degli strumenti ad hoc per effettuare questo monitoraggio lo strumento principe fra tutti se pensiamo a uno strumento gratuito è sicuramente la search console di Google la search console di Google è uno strumento gratuito di diagnostica che ci dà delle informazioni su come il nostro sito viene considerato dal motore di ricerca e ci permette di fare tantissime cose che sono di grande aiuto per questo tipo di lavoro ve ne cito soltanto alcune fra le principali quindi ad esempio controllare i tag title e meta description ad esempio se sono troppo lunghi se sono troppo brevi se sono duplicati e via discorrendo analizzare il rendimento del sito su Google proprio in termini di parole chiave fare un check dei link in ingresso e degli anchor text di questi links fare un controllo dei link interni in termini di qualità in termini di quantità implementare il targeting internazionale nel momento in cui abbiamo la necessità di gestire un sito che sia in multilingua controllare lo status di indicizzazione del sito nonché fare un check di eventuali errori di scansione pensiamo ad esempio ai 404 un'altra cosa che ci consente di fare è l'invio di una sitemap XML a Google che praticamente è un file che consente di dare a Google una fotografia della struttura del sito della sua gerarchia in modo da suggerire quali sono i contenuti più importanti o eventuali contenuti che invece non vogliamo che vengano indicizzate un altro strumento estremamente prezioso sono le piattaforme invece di Web Analytics tramite la Web Analytics accanto al lavoro che possiamo fare su Search Console abbiamo di fatto l'opportunità e la possibilità di trasformare la lettura di un dato l'interpretazione di un dato in un'azione di ottimizzazione anche qui faccio un esempio chiaramente con una piattaforma di Web Analytics possiamo visualizzare quali sono i volumi di traffico sul nostro sito rispetto a un determinato intervallo combinando alcuni filtri e combinando alcuni rapporti e la segmentazione utenti possiamo ad esempio avere una fotografia di quali sono i contenuti acceduti da una ricerca su un motore di ricerca e questo ci fornisce delle informazioni preziose sul posizionamento dei contenuti in questo caso nell'esempio ho incrociato il rapporto pagine di destinazione con la segmentazione con il paniere per così dire di traffico il segmento del traffico organico rispetto a questi due argomenti SEO e Web Analytics abbiamo come anche ha introdotto Lorenzo all'inizio rilasciato due guide la guida SEO di Designers Italia che è costantemente in evoluzione e in aggiornamento e la guida Web Analytics per cui chiunque avesse intenzione di approfondire questi argomenti può intanto recarsi sulle guide per saperne di più sull'argomento lavorare insieme la SEO è un lavoro iterativo ma è anche un lavoro collaborativo come dicevo all'inizio un lavoro trasversale a svariate professionalità da chi si occupa di comunicazione a chi scrive i contenuti a chi sviluppa il sito e si occupa della sua manutenzione evolutiva fino ad arrivare a chi fa i check di sicurezza attraverso il kit SEO volevamo dare un po' contezza di tutto questo e abbiamo diciamo così pensato che potesse essere una buona idea offrire due strumenti il primo che è una checklist una checklist basata su una web application di project management che si chiama Trello che noi utilizziamo costantemente nel nostro lavoro e che consente proprio di come dire organizzare il lavoro di più gruppi di lavoro trasversali per un obiettivo specifico quindi questa board di Trello dedicata alla SEO è stata organizzata proprio suddividendo in colonne gli ambiti di cui sopra quindi la SEO home page che poi ingloba al suo interno anche la SEO on content la off page SEO quindi penso a tutte quelle attività di analisi dei backlinks di link building e tutte le attività di promozione collaterali poi c'è una colonna specificamente dedicata alla SEO tecnica quindi ad esempio come implementare un sito multilingua da questo punto di vista come fare un check di usabilità sui dispositivi mobili come perché valutare gestire ottimizzare la velocità delle pagine perché può essere in alcuni casi utile implementare delle pagine AMP come perché è necessario gestire in maniera pronta eventuali errori 404 e come gestire i redirect abbiamo dedicato inoltre una colonna alla search console di Google come dicevo prima che è uno strumento di diagnostica estremamente interessante e anzi invito gli operatori diciamo così dell'APA a iscrivere e registrare la proprietà dei propri di da search console perché questa attività è una cosa diciamo così che spesso viene trascurata viene trascurata ancora di più dell'avere per esempio una piattaforma di Web Analytics che ci aiuta a monitorare del sito abbiamo poi le ultime colonne nelle quali abbiamo inserito delle risorse più avanzate che riguardano per esempio delle customizzazioni di Google Analytics che sono create ad hoc per la SEO ed è possibile scaricare liberamente in maniera gratuita dalla Google Analytics Solution Gallery che possono essere dei rapporti personalizzati o anche delle dashboard e poi abbiamo inserito anche delle risorse per browser quindi delle semplici estensioni da installare su Chrome o su Firefox che possono aiutarci proprio nel lavoro di monitoraggio qui vediamo un esempio della checklist con alcune delle schede espanse quindi diciamo il concetto è quello appunto di avere sotto mano una sorta di lista di task che è necessario fare quindi l'ABC dell'ottimizzazione sotto vari punti di vista che sarebbe necessario diciamo così lavorare per avere un sito ottimizzato quindi vediamo ad esempio per quanto riguarda la struttura delle URL diamo all'inizio in descrizione tutta una serie di indicazioni su come dovrebbero essere delle URL parlanti quindi parliamo della lunghezza dei trattini di processo che degli underscore delle parole chiave salienti rispetto al contenuto e poi laddove possibile abbiamo inserito dei rimandi alle guide SEO e o analytics oppure a delle risorse online ufficiali penso al caso della search console che possono fare da guida diciamo così all'utilizzo degli strumenti e delle tecniche che suggeriamo quindi questo è il primo strumento diciamo il secondo strumento invece ricalca lo stesso principio dell'audit dei contenuti di cui parlava Lorenzo è che probabilmente molti di voi hanno già visto utilizzato ed è diciamo così un google sheet che ha l'obiettivo di organizzare un audit SEO in maniera collaborativa si parte dall'idea di una mappatura di URL quindi si parte dall'idea che diciamo così a partire da una sezione magari di URL più visitate del sito o addirittura mappando l'intero sito si può procedere ad una ottimizzazione di vari aspetti in questo documento specifico e per questa prima release ci siamo focalizzati intanto sull'indicazione del content type del contenuto mappato quindi se si tratta di una omni-sezione piuttosto che di un articolo di una lista di un kitiamo di una roadmap eccetera e diciamo così abbiamo suddiviso questo documento in tre ambiti principali di azione di ottimizzazione il primo è tutto ciò che possiamo fare rispetto alle URL quindi l'azione sulla URL è il tipo di status che vogliamo dare alla URL ovvero se la modifichiamo se la lasciamo invariata questo aggiungerei può essere particolarmente utile dopo lo sheet del content design per esempio quando abbiamo bisogno necessità di migrare un sito quindi possiamo inserire nella colonna a fianco per esempio se è la URL modificata abbiamo assegnato uno status di redirect 301 302 oppure di 404 ad esempio e possiamo indicare la successiva URL e delle note che ci aiutano a capire la storia della modifica di quella URL poi il secondo ambito è invece un ambito più strettamente contenutistico quindi qual è l'azione di cui ha bisogno quel contenuto mancano dei termini salienti al suo interno manca title nella maniera corretta è assente del tutto la meta description è assente l'H1 e così via quindi diciamo questo strumento seguendo la stessa logica dello sheet di content design ha proprio questo obiettivo quindi di fornire in tempo reale una mappatura e un audit diciamo così del lavoro che si sta facendo e può essere essendo un Google Drive utilizzato simultaneamente da più persone di un team di lavoro ok approfitto diciamo così di questo di questo intervento per ricordare che a Stiamo a Lorenzo stiamo diciamo così lavorando alla alla creazione di un gruppo di un gruppo di lavoro dedicato proprio al design dei contenuti alla SEO e al loro raccordo quindi inviterei chiunque di voi fosse interessato a interessato particolarmente a questi argomenti a unirsi a noi attraverso il forum Italia e il thread dedicato che trovate su questa slide con questo io avrei concluso Daniela ti passo nuovamente la parola grazie Daniela per questo intervento molto chiaro e interessante allora c'era Lorenzo che voleva rispondere a qualche domanda Lorenzo se puoi riattivare la tua webcam e microfono e poi diamo subito dopo la parola Barbara per la conclusione del suo intervento si riaccomi qua dunque c'era questa domanda sulla ottimizzazione SEO per quanto riguarda le app beh diciamo che telegraficamente perché abbiamo veramente minuti contati diciamo che ci sono due mondi uno è il mondo del cosiddetto app indexing cioè la indicizzazione delle app naturalmente presuppone essenzialmente che esista un sito web e non solo un'applicazione che venga fatta una mappatura tra contenuti del sito web e contenuti dell'applicazione oppure attraverso un'app ibrida si possano fare diciamo delle logiche di convergenza e istruire il motore di ricerca in modo che quando uno sta cercando il contenuto si faccia uscire non solo la risorsa web ma anche il riferimento allo stesso contenuto all'interno dell'app l'utente poi ovviamente se non ha l'app scaricata dovrà scaricarsi l'applicazione per poter accedere al contenuto poi c'è il tema invece cosiddetto di ASO cioè App Store Optimization che ha a che fare con il motore di ricerca delle app cioè le persone cercano applicazioni sui motori di ricerca degli store su Google Play e su Apple ovviamente e quindi che cosa succede? Bisogna applicare una serie di regole al modo in cui scrivi la presentazione della tua applicazione al modo in cui classifichi la tua applicazione all'interno delle categorie degli store e una serie di altri accorgimenti che fanno sì che le persone quando cercano la tua app la possano trovare facilmente e cercare di incidere ovviamente sul posizionamento della tua app all'interno del ranking delle applicazioni poi c'era una seconda domanda anche qui sarò telegrafico sul tema molto interessante del rapporto che ci può essere tra un ufficio comunicazione e diciamo tutta una serie di temi di fornitori che si occupano più degli aspetti tecnici e così via ecco la risposta sempre telegrafica che io posso dare è che prima di tutto il tema dei contenuti è e deve essere sempre di più un tema trattato con una logica tecnica nel senso che serve un approccio tecnico ai contenuti nel senso che noi tutti noi come esseri umani siamo abituati a parlare conosciamo il linguaggio e in questo caso bisogna avere un approccio professionale ai contenuti e al linguaggio quindi bisogna usare degli strumenti di analisi degli strumenti di mappatura degli strumenti di progettazione allo stesso modo i contenuti devono essere inseriti nei processi di design i contenuti sono una parte del design in senso più ampio se intendiamo il design come processo di progettazione di un servizio di un ambiente informativo grazie grazie Lorenzo per questi chiarimenti darei la parola a Barbara per la conclusione del suo intervento Barbara se puoi attivare la tua webcam e il microfono Barbara ok eccomi qua bene scusate la parola tanto per rimanere in tema allora mi fermo un secondo questa slide in cui c'eravamo fermati interrumpi anzi per cogliere l'occasione per rispondere anche a qualche domanda qualcuno chiedeva dichiarire il ruolo del grassetto in ottica SEO e poi come cerchiamo la connessione tra tag tag i tutorial tag prescription e parole chiave allora quello che facciamo noi è quello di lavorare sul contenuto della pagina e quindi su quello che è il contenuto che è pertinente di quella pagina in questa maniera facciamo in modo che il titolo la descrizione quindi l'abstract il contenuto siano coerenti in termini di parole significative e sono quelle le parole significative e caratterizzanti l'articolo che noi poi evidenziamo anche attraverso il grassetto quindi da questo punto di vista è un po' l'operazione che facciamo noi è un'operazione che richiede mette un po' in campo quelle che sono anche le nostre competenze inevitabilmente individuando poi delle modalità che cerchiamo di condividere con i nostri redattori in sede di formazione quindi fare in modo che emerga sia evidente non ci sia incoerenza tra il titolo la parte dell'abstract e magari quelle che sono le parole evidenziate in grassetto proprio in ottica SEO e poi qualcuno chiedeva se come era avvenuta la migrazione ho detto la migrazione è avvenuta in maniera manuale manualmente questa è stata l'occasione proprio per anche fare questo lavoro preciso sui contenuti di revisione proprio perché non si è trattato di una migrazione automatica automatizzata e poi qualcuno chiedeva se abbiamo in qualche maniera ci siamo avventurati nell'ottimizzazione editoriale delle anteprime per i social no non l'abbiamo fatto quello che abbiamo verificato è chiesto che in fase di condivisione comunque venisse in qualche maniera garantito il titolo l'appstart l'immagine in una certa maniera però non in ottica SEO assolutamente e concludo a questo punto l'intervento un po' nell'ottica di quello che ci aspetta e una riflessione sulle scelte che abbiamo fatto allora vi dicevo all'inizio che noi siamo partiti un po' sulla spinta di due elementi avere un sito web responsive e la necessità di rivedere l'architettura e proprio per migliorare l'accessibilità e l'informazione dei cittadini allora in ottica responsive i risultati effettivamente ci sono stati anche se possiamo disporre di dati sul brevissimo periodo perché parliamo negli ultimi sei mesi però la cosa la tabella che potete vedere mostra innanzitutto come ci sia questo ma anche seguendo la tendenza non solo nazionale cioè abbiamo un calo delle modalità d'accesso da desktop e una crescita non tanto da tablet ma proprio da smartphone quindi questo è un elemento importante anche se non si avvicina certo a quelli che sono i dati nazionali leggevo ieri i dati 2018 ci dicono che il 69% degli utenti accede tramite mobile quindi in realtà per quanto riguarda la rete civica del Comune di Firenze misura preponderante l'accesso tramite desktop però abbiamo fatto dei passi importanti ecco collegato con questo elemento l'aspetto secondo me importante è che nel 2018 è diminuito veramente in maniera significativa la frequenza di rimbalzo proprio dai dispositivi mobile vale a dire dati del 2014 mostravano come rispetto alla media di rimbalzo rimbalzo da mobile fosse di molto di molto superiore e nell'arco questo è un dato che più o meno si è mantenuto abbiamo controllato i dati del primi sei mesi del 2018 effettivamente si nota veramente questa diminuzione della frequenza di rimbalzo da mobile evidentemente questo cambiamento è stato raccolto notato dai cittadini altro elemento e così mi collego all'altra esigenza di cui eravamo partiti cioè quali sono le nostre prospettive future senza dubbio quella di diffondere e cercare in qualche maniera di mettere a sistema soprattutto con i nostri redattori delle azioni in termini di ottimizzazione dei contenuti per i notori di ricerca quindi le cose che già facciamo e altre ancora suggerite anche dal kit quindi da questo punto di vista raccogliamo anche l'invito di partecipare al gruppo di lavoro d'altra parte questo per noi apre anche un'altra riflessione se i nostri contenuti diventano sono diciamo più visibili da google quindi il livello di ottimizzazione cresce è chiaro che siamo chiamati ancora di più ad avere una rete civica poi sia effettivamente usabile perché altrimenti il rischio è che li portiamo in rete civica e poi in rete civica i risultati non sono altrettanto così di valore quindi recentemente Agit ha messo a disposizione un test di usabilità della nuova rete civica che insomma ha evidenziato quelli che sono i punti a favore di cui siamo ben felici ma chiaramente ci ha anche mostrato che c'è ancora un po' di lavoro da fare in particolar modo tanto per rimanere in tema uno degli elementi degli aspetti un po' di maggior criticità della nostra rete civica è il motore di ricerca interna quindi speriamo di poter ottenere di poter così avere gli stessi risultati o comunque avviare lo stesso percorso anche per il motore di ricerca e poi comunque in generale migliorare l'usabilità della nostra rete civica proprio anche sulla base dei test perché non dimentichiamo che era questo un pochino quello che ci ha mosso da una parte un sito responsive dall'altra però anche un sito che avesse un'architettura di informazione diversa più accessibile per il cittadino e quindi questo penso insomma sono le nostre i nostri impegni per il futuro e quindi per ora ci fermiamo qui anzi nel racconto ci fermiamo qui nell'azione assolutamente no siamo veramente nel mezzo di questo cammino impegnativo ma affascinante basta direi grazie a tutti benissimo grazie Barbara per aver concluso l'intervento io direi ai relatori chiederei di riattivare webcam e microfono per rispondere alle ultime domande allora una delle domande è quella sul grassetto se è significativo per i risultati di ricerca in parte già ha risposto qualcuno in chat non so se vuoi aggiungere qualcosa Lorenzo o anche Daniela su questo ma come per tutte le cose l'indicazione è di utilizzarlo in un'ottica di servizio al lettore e come sappiamo come già detto Barbara ha usato con grande parsimonia motori di ricerca tendenzialmente non lo premiano come fattore di ranking nel senso che non ha senso mettersi a riempire per capirci le pagine di grassetti per cercare di essere meglio posizionati questo vale in generale per tutto ciò che è la scrittura per il web cioè il concetto di sovraottimizzare per i motori di ricerca cioè di fare qualcosa per cercare diciamo di ingannare google è un concetto che non bisogna perseguire bisogna cercare di scrivere in modo semplice e concreto cioè utilizzare termini concreti e non astratti e utilizzare parole semplici e non parole burocratiche scrivere sempre una descrizione delle pagine perché descrivere le pagine con due righe tre righe aiuta tutti aiuta prima di tutto noi a capire al bordo di cosa si parla perché ricordiamoci sempre che le persone sul web non leggono cioè tendenzialmente scansionano i contenuti ma non li leggono in un'ottica più lineare quindi bisogna lavorare sui blocchetti di testo e cercare di concentrarci sugli aspetti di paratesto come i titoli e le descrizioni tanti pdf di cui sono pieni siti da pubblica amministrazione se avessero se venissero pubblicati con un titolo e una descrizione che li introduce sarebbero indicizzabili e molto più comprensibili per tutti per esempio benissimo grazie Lorenzo un'altra domanda è se offrite appunto a richiesta servizio diciamo di consulenza per fare un'analisi seo lo diceva Daniele abbiamo questo piccolo gruppo di lavoro che non è un gruppo di lavoro per cui noi realizziamo per altri le cose ma nel senso che se c'è qualcuno che vuole iniziare a usare questi kit e sperimentarli insieme a noi significa che naturalmente noi supportiamo l'utilizzo dei kit ma ovviamente ci aspettiamo che sia l'amministrazione che svolga l'attività di audit dei contenuti e della seo non possiamo scambiare il lavoro di costruzione diciamo di un servizio centrale di strumenti con il fatto che noi realizziamo i servizi e gli strumenti sarebbe impossibile pensare che noi come struttura centrale realizziamo diciamo il web della pubblica amministrazione in tutta la sua complessità il nostro lavoro è molto più se ci muoviamo su un fronte voglio dire molto più con obiettivi molto più limitati e possibilmente concreti di utilizzare di introdurre dei strumenti e di cercare di costruire una comunità di persone che li usano insieme a noi per migliorare ciascuno il proprio sito lavorando in un'ottica di piccoli progetti utilizzando dei kit in modo che anche singole persone o gruppetti di persone possano realizzare con relativamente poco degli interventi piccoli concreti di miglioramento delle cose molte volte basta poco un'ultima domanda arrivata adesso in chat riguarda l'utilizzo dei titoletti nel testo cioè H2 H3 eccetera sì allora Daniela c'è un eco se potete disattivare il microfono magari Lorenzo perché credo che si può ok perfetto grazie ok eccomi dunque l'utilizzo dei titoletti nel testo quindi dei tag di edic sono assolutamente utili diciamo così sono anzi fondamentali sia per l'utente per stabilire la gerarchia per esempio dei titoli di paragrafo o di altri elementi della pagina vengono anche questi presi in considerazione ovviamente dai motori di ricerca per stabilire qual è la priorità delle informazioni di una determinata pagina quindi assolutamente suggerirei di utilizzarli e fra l'altro c'è un paragrafo dedicato proprio all'utilizzo dei tag di edings nella guida di designers italia dedicata al SEO e alla gestione dei contenuti approfitto per dire che diciamo così eviterei di focalizzare diciamo così l'attenzione su questo o quell'elemento di ottimizzazione come se fossero diciamo così la soluzione ultima per il posizionamento di un contenuto non è l'utilizzo del grassetto in sé o l'utilizzo del tag di edings in sé che diciamo così concorre al buon che stabilisce che decreta il buon posizionamento di un contenuto è un lavoro come abbiamo detto trasversale dove diciamo così ci sono vari fattori da prendere in considerazione tecnici contenutistici quindi ecco è un lavoro a tutto tondo è un lavoro a 360 gradi e come tale deve essere visto e gestito insomma benissimo io vi ringrazio non so se Lorenzo vuole aggiungere qualcosa a conclusione altrimenti direi di chiudere questo webinar vi ringrazio insomma per aver gettato nuova luce su questo argomento che comunque insomma è nodale quindi Lorenzo non so se vuoi aggiungere qualcosa dovresti riattivare il tuo microfono utili eccomi se puoi ripetere un attimo Michela perché ho avuto per un momento ti ho sentito solo a metà no volevo chiederti se volevi concludere in qualche modo il webinar certo con piacere certo con piacere prima di tutto ringrazio per la grande partecipazione e anche per questo ribollio della chat dove ho visto diverse considerazioni segno di attenzione verso l'HTML verso il linguaggio web verso il rapporto tra contenuti e aspetti tecnici che secondo me è l'aspetto chiave io devo dire sono molto contento dell'intervento di Daniela che penso possa ispirare diciamo tante piccole attività concrete diciamo di miglioramento dei siti e di Barbara che si sta mostrando come anche su un comune come Firenze si possa iniziare a lavorare con un approccio molto vicino alle persone e cercare di obiettivamente migliorare le cose passo dopo passo con un'ottica di miglioramento progressivo quindi grazie mille a tutti e sicuramente ci riaggiorniamo sulle prossime evoluzioni tra cui anche sicuramente il tema che è stato citato delle app perché sicuramente insieme a Daniela stiamo già immaginando dedicare un paragrafo a questo tema che vedo che suscita curiosità e quindi vi forniremo un po' di aggiornamenti e un po' di materiale in modo che chi ha le app le possa possa lavorarci sopra anche in ottica diciamo benissimo grazie Lorenzo insomma invito tutti a andare appunto a approfondire sulle linee guida di design in particolare appunto nella parte dedicata al SEO dove potete trovare anche degli approfondimenti sicuramente e appunto nel link che vi ho messo di design in Italia trovate anche tutti i kit che finora insomma sono stati messi a disposizione dal team grazie a tutti grazie mille veramente per la chiarezza e professionalità dei vostri interventi grazie buona giornata a tutti buona giornata grazie